Buongiorno a tutti E' un legame forte tra il passato e il presente E' un pensiero che si avviene e che ha sempre la stessa destinazione Ma trova un percorso differente per raggiungere Il ritorno e le idee arriva lì, dove tutto è cominciato Il ritorno e le idee arriva lì, dove tutto è cominciato Il ritorno e le idee arriva lì, dove tutto è cominciato Dice il primo che si attende, si offende e lo dice Come ci stiamo arrivando a volerci così da fumare con il suo Come ci stiamo fermessi di dirci che ognuno sa quello che vuoi E' un camminato in centro, e' un uomo e di giochi a bordo Basta per vedere il tuo fastidio, ma i conti si scoprano a bordo Basta per vedere il tuo fastidio, ma i conti si scoprano a bordo Basta per vedere il tuo fastidio, ma i conti si scoprano a bordo Basta per vedere il tuo fastidio, come le idee Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.